Sono più di 370 i casi accertati di coronavirus in Italia. 12 finora le vittime, l'ultima e un 69enne di Lodi morto in Emilia Romagna. L'uomo era affetto da patologie respiratorie pregresse. Tra i contagiati ci sono anche 8 minorenni, 7 in Lombardia ed 1 in Veneto. Tra questi anche una bambina di 4 anni di Castiglione Dadda, uno dei 10 comuni dell'Odigiano isolati. Nelle prossime ore la protezione civile invierà 500.000 mascherine nelle regioni. Finora sono più di 9.000 i test condotti in Italia. La larghissima parte di questi tamponi, diciamo più del 95%, ha dato esito negativo. Al momento sono due i pazienti guariti dal virus. Il secondo è la turista cinese ricoverata da fine gennaio allo Spallanzani. La donna era stata, assieme al marito, il primo caso in Italia. Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha disposto intanto la creazione di presidi sanitari nelle carceri per prevenire la diffusione del virus. Grazie. Grazie.